E' ripresa ieri pomeriggio la preparazione del Messina in vista del secondo impegno del Girone I del Campionato Nazionale di Serie D, in programma domenica prossima contro l'Igea Virtus allo stadio comunale dal Contres Barone di Barcellona. Oggi è in programma una doppia seduta di allenamento allo stadio Franco Scoglio per la compagine guidata da Pietro Infantino, in gruppo anche Pietro Arcidiacono, carico in vista del derby. No, no, il gruppo è lo stesso, giustamente i ragazzi erano un po' giù di morale ma ci stavano, quando perdi 3-0 in casa, però la cosa bella del calcio è che domenica giochi e ti puoi rifare, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, mantenere la nostra serenità e lavorare. Messina la conosco come piazza, quindi io voglio che la gente viene allo stadio, ci sostiene e noi poi in campo gli daremo le risposte prima sudando la maglia e poi sperando facendo i risultati. No, sono sceso di categoria perché qua alla fine a Messina mi sembra tutto tranne che una Serie D, quindi non è quello. L'obiettivo è normale, sono di portare questa grande piazza e questa società dove che merita e noi facciamo il possibile per andare su prima possibile. Siamo tutti sullo stesso livello, c'è gente che ha vinto campionati, gente che questa categoria la conosce bene, gente che viene dall'ACI, quindi noi daremo il nostro 100% all'allenamento e metteremo in difficoltà il mister, poi giustamente il mister faremo le sue scelte, ma alla fine siamo tutti per l'unico obiettivo, quindi va bene. Più ce n'è è meglio. Di fare l'arcidiacono, quello che mi chiede il mister, quello che mi chiede la società faccio, poi giustamente facendo le cose che provi in allenamento, che dice il mister, poi giustamente viene fuori anche il singolo, quindi qua di singoli ce n'è abbastanza. Quindi ti ripeto, il nostro obiettivo è quello di riportare il prima possibile Messina dove che merita, poi ti ripeto, c'è un arcidiacono, c'è altri nomi, non fa niente.